Bentornati a tutti quanti sul canale di Buffera TV Allora ragazzi, finalmente ci siamo Posso ufficialmente rilassare la review di Percy Jackson Lo recuperate di recente, l'ho vista fine settimana scorsa praticamente Però essendo che c'era altro materiale da qui caricare Non avevo tempo per fare la recensione Anche perché cose da dire, se ne sono Parliamo del presupposto che non farò troppi spoiler Ovviamente farò degli spoiler per quanto riguarda i personaggi Perché dovete sapere come li hanno gestiti secondo il mio punto di vista Quindi per chi non volesse sapere proprio niente di Percy Jackson Chi non vuole sapere che niente, niente, niente Non guardi neanche questo video Però, ripeto, non ci sono spoiler ai fini della storia Non ci sono spoiler che farò per quanto riguarda il ricalcamento dalla serie al libro Però farò spoiler sui personaggi Perché un po' devo dire la loro caratterizzazione Partiamo dal presupposto che è una serie piaciuta Partita molto bene secondo me E poi però il problema è che verso la finale Ho avuto un calo perché ho notato Una regia molto frettolosa nei combattimenti Tutto molto sbrigativo Però devo dire che nel contempo Mi è piaciuto quello che ho visto Ora hanno confermato la seconda stagione Per quanto riguarda l'adattamento del secondo libro Il mare dei mostri Che sono curioso ragazzi Non posso dire che non sono curioso Non sono hippato Perché non l'ero manco per quando ero in CTF Mi avevo visto giusto per curiosità Però devo dire che Ho... Attenzione ecco Non ho catturato la mia attenzione Ho curiosità Curiosità Non hype Sono due cose diverse Anche perché è inutile stare qui a farsi l'hype Per una serie che comunque È andata molto meglio Rispetto alle altre serie di Sene Plus Ma che comunque ha dei difettuzzi Molto evidenti anche Ad esempio non tutti i personaggi mi hanno catturato Però se sei un personaggio In questione Anzi due Che occorre un catturarmi per la celta È stato il personaggio di Annabeth Di Annabeth Perché lei Annabeth è fantastica E mi è piaciuto il casting Che hanno scelto per interpretarla So che non è quella del libro ragazzi Perché anche Annabeth Nei film era interpretata Alexandra e Dario Aveva i capelli rossissi Infatti lei era presentata così nel libro Però chi se ne frega Se il personaggio è gestito E caratterizzato bene Ma è quanto basta E poi Persi Sex Mi è piaciuto Ovviamente Persi Hanno preso un ottimo attore Per interpretarlo Secondo me è molto giovane Poi per quanto riguarda L'altro personaggio di cui vi parlavo Era Medusa Medusa mi è piaciuto tantissimo Quando me l'hanno fatta Molto Molto misteriosa Perché anche il fatto dei serpenti Non è che te lo fanno capire subito Però Se ad esempio quando Persi Sexson Arriva Nel film E vedono le statue Ok Annabeth disse Ok Medusa Fermi tutti Ecco Qui questa cosa non accade subito Se lo sanno che è Medusa Però Non te la mostrano subito E se è un combattimento Stupendo Che dura pochissimo però Perché Praticamente come se non si fosse Praticamente Grazie a uno stratasema E gli atto a Annabeth Riescono a fare quello che succede Nel libro Ovvero Mossarli la testa Poi Come sapete anche voi vedendo i film Alla testa se la trassinano dietro Per tutto Per tutto il viaggio Ecco Anche se nella serie Questa cosa non accade Ecco Una cosa che non mi è piaciuta Hanno saltato un passaggio Che era presentato Sia nel libro Che nel film Ovvero Lo scontro Con l'idra L'idra non manca Ci sono tutte le creature Citate Nel libro Penso di averle viste tutte Ma non c'è lo scontro Con l'idra Sa cosa a me non è piaciuta Perché È un tassello Sì Che non è importantissimo Ragazzi Però di tutte le creature Fammi vedere la chimera E fammi vedere Il minotauro Che è l'essenziale Per la morte Della madre di Percy Jackson E fammi vedere Le arpie E mi fa vedere La creatura Cu marina E mi fa vedere Trantatram Insomma Mi ha fatto vedere pure Il serbero Sera Adesso non mi ricordo Sì Sera il serbero Nell'ade Però ragazzi Perché non mettersi l'idra Se me li hai rappresentati tutti Mettissi anche l'idra Quindi Non vedo effettivamente Il problema dove stava Però Chi se ne frega Ripeto Non è un difettusso Mi è piaciuto invece Il personaggio di Duke Lui mi è piaciuto veramente tanto Perché È un mezzo Sochista Adesso te ne accorgi Un po' come lo era Nel film E lì L'ha interpretato La Jack Bale Un altro attore Però comunque qua Mi è piaciuto Poi Parlando di idee Poseidone È quello un po' più Rappresentativo Secondo me Ade Non l'ho visto Ben integrato Anche se mi è piaciuto Dunque il personaggio Ares Mi è piaciuto tantissimo Perché è sviluppato bene E Vabbè Zirone Compagnia ballante Insomma ragazzi È tutto ben gestito Anche Anche il fatto di Zirone E come dicevo prima Poi il campo Il campo Messo sangue È bello rappresentativo Bello rappresentativo Bello Mi è piaciuto E Niente Per il resto La regia è ok La fotografia è ok Aspettiamo questa Seconda stagione Il mio voto Per questa Prima stagione Va sul set Non lito di più Perché comunque Ha dei difetti Fatte un certo momento Sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti